Parliamo di sviluppo economico ed occupazione, si tratta davvero di un binomio inscindibile e si vota per il rinnovo del Consiglio regionale pugliese, siamo con Vincenzo Di Gregorio che è candidato con il Partito Democratico a sostegno del governatore uscente Michele Emiliano. Come far decollare l'economia di un territorio e parallelamente favorirne la crescita occupazionale? Certamente abbiamo i grandi temi, Taranto è espertissimo in questo, abbiamo il tema innanzitutto del porto che dobbiamo sviluppare anche molto di più nel settore turistico, abbiamo le problematiche legate all'aeroporto perché l'aeroporto potrà portare gente legata al turismo e alla cultura, abbiamo il problema dell'agricoltura che va attenzionata nel nostro lavoro ogni giorno perché è un tema importante che porta tanto lavoro e che è legato anche all'enogastronomia e chiaramente la questione ambientale dove va deciso finalmente con un atto vero di coraggio le problematiche dell'ILVA e del Grandindotto. Grazie a tutti.